Gli special color dell'aeronautica militare volano alla Tiger Meet. A Palermo il corso di cultura aeronautica. Ben trovati con le notizie di Videonews. Si chiama Tiger Meet ed è il nome dell'esercitazione internazionale che si conclude oggi a Mont-de-Marsan in Francia. Vediamo il servizio della nostra inviata. Addestramento in operazioni complesse, difesa aerea, integrazione di assetti ad alla fissa e ad alla rotante, ma soprattutto cooperazione internazionale ed interoperabilità degli assetti partecipanti sono stati gli obiettivi della Tiger Meet 2019. Un appuntamento che si ripete ogni anno e nel quale svolgono un ruolo da protagonisti due reparti di volo dell'aeronautica militare, il cui emblema distintivo è appunto la Tigre. Una importante opportunità destrativa della durata di 12 giorni e che ha interessato gli equipaggi degli elicotteri HH-212 del 21esimo gruppo del nono stormo e i piloti dei velivoli Eurofighter del dodicesimo gruppo del trentasesimo stormo. L'esercitazione della Nato Tiger Meet prevede la partecipazione di tutti i reparti di volo della Nato Tiger Association. I gruppi volo partecipanti per l'occasione realizzano degli special color raffiguranti la Tigre a simboleggiare il gruppo di appartenenza. Prosegue l'attività di ambientamento al volo rivolta agli studenti delle scuole superiori grazie ai corsi di cultura aeronautica organizzati dall'aeronautica militare. L'ultimo in ordine di tempo è quello che si è concluso ieri a Palermo e che ha interessato 250 studenti delle scuole del capoluogo siciliano. Per circa due settimane i giovani sono stati impegnati tra conferenze, teoria e pratica sui principi del volo e sul funzionamento dell'aeroplano. Il corso, come di consueto, è terminato con il volo su un aereo CIU-208. A bordo, gli studenti assieme agli istruttori del sessantesimo stormo. Esperienza bellissima, così è stata definita dai partecipanti. È stata un'esperienza veramente bellissima da ripetere e tra l'altro anche unica perché alla nostra età, essendo al liceo ancora fra il quarto e il quinto anno, non è per niente scontato andare in cielo e fare un'esperienza del genere, quindi davvero davvero bello. Grande emozione suscita nei giovani l'esperienza del volo, come raccontato da alcuni dei protagonisti siciliani. È stata un'esperienza unica e spero di avere un'altra esperienza del genere, un'opportunità del genere perché comunque siamo stati in 200 molto fortunati a fare questo gire in aereo grazie all'aeronautica. Sono divertita, è una grande esperienza, la consiglio a tutti. I corsi, svolti in accordo con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentano iniziative di orientamento per diffondere la conoscenza del mondo aeronautico. Un nuovo canale di vendita per l'editoria aeronautica, il commercio elettronico su Amazon.it che consente da ieri l'acquisto online dei prodotti editi dall'Aeronautica Militare. L'apertura della vetrina dell'Aeronautica Militare su Amazon.it è stata realizzata in collaborazione con Difesa Servizi SPA, società in house del Ministero della Difesa, e rientra nelle attività di valorizzazione dell'editoria militare realizzate dalla società che svolge anche la funzione di editore della rivista aeronautica. Anche per oggi è tutto. Video News termina qui. Se volete guardare tutti i servizi che l'Aeronautica Militare realizza, è molto semplice, basta iscrivervi al nostro canale YouTube.